allora ragazzi eccoci qua eravamo arrivati all'ultimo portale e avevamo fatto mi sembra già un livello sì questo qui o mamma no quello della moto scusate ma lo lascio per dopo perché non ho voglia di sclerare subito dai proviamo questo tanto sclererò in ogni caso già lo so però quello della moto proprio mi fa incazzare parecchio quindi direi che come inizio non è il caso quello adesso ci affetterà in mille pezzi e infatti cioè non potevo farmi i cavoli miei l'avevo saltato praticamente lo lasciavo lì e invece no sono cretina mi preoccupa da quando mi ha dato quella cosa del vortice del vortice prepotente diciamo rischio sempre di finire giù da tutte le parti ragazzi allora vediamo qua come andare avanti quello ci affetta sicuramente sì ma c'è ok facciamo così abbiamo risolto il problema si sta avvicinando un po' troppo per i miei gusti quello là anche se l'avevamo saltato allora devo dire che ho notato che abbiamo pochissime vite sì e mi sa che per battere il boss che ci troveremo qua avanti mi sa che non ci basteranno mai mi toccherà rifarmi qualche livello sicuramente no ma come ho fatto a cadere cioè io schiacciato per saltare vabbè poco male eravamo qua col checkpoint l'unica cosa che mi preoccupano sono appunto le vite perché come dicevo ne abbiamo troppo poche ecco devo saltare più in alto ok però volevo le mele vaffan bagno cioè così me le gioco tutte però meglio che rischiare di saltare in aria va abbiamo troppe poche vite non possiamo permettercelo ora ok fatemi capire qua dove cacchio è la cosa di tnt dai ok sentite questa ma risparmio di prenderla perché non voglio rischiare va vedete che continua a farlo sto vortice cioè va avanti anche quando io mollo il tasto non avevo visto vaffan bagno meno male che eravamo qua tanto adesso perdiamo dobbiamo rifarlo tutto da capo io già già lo so ma già ma scusate eh sono un po rimbambita va bene che non ne prenderemo mai tutte però perlomeno quelle che ci troviamo comodamente così dai dai dammi un'altra vita ma meno male mamma mia questi qua queste spade mettono un'ansia queste sciapole qua che cacchia loro la sono va rallentato presto davvero oh bonus oh Grazie a tutti. 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 Vediamo. A sto punto. potevo farle. però, però. non riesco a... indietro. non ce la farò. mai a fare quelle... tanto, ma... che se faccio... la... ok. Ok. non so come ho fatto. ragazzi, non lo chiede... ma... sì, questo io... amo sto punto. devo dire che è il punto. che mi piace tantissimo. ho visto che io odio... proprio all'al... all'inverosimile... le cacchio di cose... ma... adesso... dov'è la luce... vabbè... diciamo a... non morire... proprio qua alla fine... abbiamo una vita... oh, non buttato... le mele... ok, ma... mamma mia... che sudata... livello... niente, vi saluto... ciao ragazzi... e...